Un drive-in in pieno stile anni 60 o americano, insomma così l'estate casentinese riparte appunto con questo bellissimo evento. Ci troviamo a Corsalone nel comune di Chiusi della Verna nella vallata casentinese. Questa è la pista di gocata della scuola di Truia Racing che chiaramente è ancora da completare, mancano i box per finirla, però con il problema del coronavirus non era possibile fare altre attività per cui abbiamo adibita a drive-in. L'ambiente è eccezionale, tutto bello recintato, messo in sicurezza per cui credo che sia un ambiente ideale. Quattro giorni a settimana dal giovedì alla domenica per una programmazione che andrà avanti fino al mese di settembre circa 80 le auto che potranno entrare in questa area. Consigliamo la prenotazione onde evitare disagi una volta arrivati sul posto se ci fosse il pieno. Arrivano con le macchine, gli si fornirà il biglietto sul posto appunto e ci saranno gli addetti che li faranno posizionare nel posto più opportuno e poi inizierà la visione. Il film viene proiettato in un maxischermo ma nessun rumore all'esterno, c'è una frequenza radio che ogni automobilista può ascoltare all'interno del proprio abitacolo. Sono una generazione che non ha vissuto questo tipo di intrattenimento però sicuramente è una bella iniziativa e la prima volta sicuramente sarà bella. Sì, d'estate sì, è più carino invece di andare al cinema, sì, meglio. Grazie.